Il Pescara ha acceso gli entusiasmi dei tifosi che adesso aspettano subito la controprova nella prossima partita di Perugia. Parlando di Perugia diciamo subito che hanno fissato il costo dei biglietti a 14 euro per la curva degli ospiti più il diritto di preendita. Intanto domani ci sarà l'amichevole Abbasto, un amichevole che partirà alle 18.30, quindi ci sarà la possibilità di vedere se Zeman confermerà o meno la formazione del secondo tempo di Foggia, contro il Foggia. I tifosi di Ceo sono in fibrillazione, attendono una conferma, sono convinti che il Pescara possa fare risultato anche a Perugia, un Perugia che all'esordio suo in campionato ha vinto alla grande pure lui così come il Pescara e ha messo in evidenza un cinesino particolarmente valido, particolarmente interessante. Pare che ci sia anche Razzi che si è preso il merito di aver portato questo ragazzo dalla Cina in Italia. Non so quanto sia vero, ma comunque questa è una nota di cronaca. Mercato. Siamo nelle ultime battute del mercato e mi ha fatto sorridere molto una battuta che è stata ripresa e ripetuta da molti tifosi che hanno detto speriamo che si guastino tutti i fax da Pescara alle altre società, insomma a dire che cosa in definitiva, che vorrebbero tanto che in queste ore non venissero venduti determinati giocatori ritenuti importanti. Intanto sappiamo che è tornato il 31enne Balzano con un contratto triennale, Balzano è stato anche capitano del Pescara, quindi un ritorno simpatico. Di Zampano in queste ore si deciderà il futuro, al 99,99% dovrebbe essere ceduto, nel momento in cui vi parlo non mi è stata data la ufficialità, comunque io lo considero già fuori dalla formazione del Pescara. Selassi. Selassi è un ragazzino interessante, pare che possa andare a Parma. Rossi piace all'Ascoli. Delicarri, giovane talento, pare interessare alla Roma. In definitiva il Pescara deve cedere alcune forze, alcune pedine, quindi di Zampano abbiamo detto, l'altro potrebbe essere Benalì, ma sarebbe un grosso peccato, l'altro potrebbe essere Brugman, ma anche qui sarebbe un peccato. Nicastro passato al Foggia, penso che al Foggia sia utile per noi, non lo so, non è stato visto bene. Intanto Del Sole e Capone non hanno soddisfatto pienamente nella prima uscita contro il Foggia, ma era preventivabile. Due ragazzi giovani, l'emozione dell'esordio, per quanto riguarda Del Sole c'erano gli osservatori del Paris Saint Germain, insomma le scusanti ci sono tutte e anche altrettanto validi. Adesso però comunque si stanno facendo vedere dalle nazionali, rispettive, Under 19 e Under 20. Vedremo un po' che cosa ci regalerà questo prossimo futuro per quanto attiene i ragazzi. Per fare ancora un'analisi e per rispondere all'entusiasmo, a volte con dei picchi troppo alti da parte dei tifosi, non per gettare acqua sul fuoco, non per fare il pompiere, ma dico che sarebbe bene guardare con entusiasmo questo lavoro, ma non con esaltazione. Perché dico questo? Lo confermo a più riprese. Perché l'esaltazione ci fa perdere di vista il tutto, invece la nostra testa deve essere a livello in piano proprio, così a livello con l'orizzonte, in modo da avere una vista lunga, pulita, precisa, senza questi birilli in mezzo che possono essere poi traumatici dopo, perché se le cose dovessero essere ridimensionate in un qualche modo, poi ci sarebbe la ricaduta e sarebbe terribile. Io dico che il pescare che abbiamo visto è il pescare di Zeman, con grandi capacità in attacco, un po' meno a centrocampo dove è mancato il filtro, è mancato diciamo un memushai. Però c'è proietti che potrebbe andare bene, ma devono assimilare un pochino di più i movimenti. La difesa. Molti dicono va bene così. Speriamo che sia vero. Certo è che aver preso troppe possibilità negative, quindi troppe occasioni per il Foggia, fa riflettere un pochino. Bene tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio come sempre a voi tutti da Gianni Lussoso. Un ringraziamento particolare a Regista, il collega Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.